ciao amici di lucennatura ben ritrovati la sfida di oggi è demolire questo enorme tronco sul quale ero seduto questo è uno dei legni più duri che esistono non vi so dire se sia di castagno o di quercia perché questo pezzo di legno sta qui su questo terreno da prima che io comprassi questo terreno quindi almeno dieci anni stiamo parlando di un legno di una durezza estrema siccome la persona da cui l'ho comprata è una signora anziana e il marito pace all'anima sua era già defunto da qualche anno questo potrebbe avere vent'anni trent'anni quindi un legno durissimo stagionato una vita questo è il legno più duro che esiste quindi amici la sfida è demolire questo enorme tronco io negli anni l'ho solo spostato un pochettino quando sono andato a mettere questo melograno ma solo per spostarlo mi c'è voluto 3 4 uomini non so voi ma io passare l'inverno al freddo non ci sto c'è qualcuno che sta imparando a fare la doccia fredda c'è chi taglia il gas si riempie di cappotti noi mettiamo in funzione stufe e camini e vi dico la sincera verità non sarà necessario perché la legna la farò con le potature quindi legna ce ne ho però se sarà necessario noi accenderemo anche le foglie bruceremo anche le foglie qualsiasi cosa ma non usiamo il gas perché non si può pagare dei prezzi esagerati come quelli che stanno circolando per il gas perlomeno io non me lo posso permettere non so voi ma siamo un po arrabbiati di questo fatto quindi dopo più di 10 20 anni non so quando adesso è arrivato il momento di demolirlo per demolirlo prima di prendere accette e cose varie intanto vi voglio dire che non è un video promozionale io non vendo nulla sto solo testando un attrezzo con voi ci tengo a dirlo questo proprio perché me l'avete chiesto qualcuno di voi me l'ha chiesto come spoiler mix voleva vedere in funzione la mia motosega non vi lascio nessun link non mi interessa io sono solo uno che a cui piace testare gli attrezzi un privato che se l'è comprato già da qualche mese e adesso ve lo fa vedere in funzione sul legno più duro che esiste e stiamo parlando di questa motosega qua una shindive 451s per chi non la conosce questa è una motosega da più di 3 cavalli adesso non vi voglio fare la recensione se no poi cambiate non vi piace ci vedete subito qualcosa di losco dietro io ho fatto un upgrade montandoci una catena al vidiam quindi in metallo duro è una motosega molto arrabbiata dopo di che se volete nei commenti ne possiamo parlare mi potete chiedere allora accensione a freddo sempre la stessa chiudiamo l'aria facciamo le pompate di prime come da manuale 10 facciamo camminare già si sta accendendo pensate un po come è grintosa adesso metto le cuffie iniziamo con tagliarne un pezzetto vediamo come va no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti